Come stai e ti chiedo come hai visto la squadra ieri in campo? Grazie. Perché non ho molto praticato con me in giro e avere una rivoluzione era molto difficile. Ma abbiamo proprio bisogno di giocare con l'altro. E penso che dopo averlo fatto, tutto si comincia a vedere molto meglio. in tale varie situazioni. E comunque fino ad oggi ci eravamo allenati con me in campo in una posizione anche abbastanza importante. Ieri non hanno giocato e quindi è chiaro che l'abitudine di avere in campo ieri non è stata essere portata a terra. Ma è quello che comunque ci possiamo aspettare da una parte della stagione che deve ancora cominciare.